Per alcuni le ciliegie sono sinonimo di fortuna, altri le associano alla primavera, altri ancora all'infanzia. Di certo sono tra i frutti più appetitosi, rosse, nere e non solo. Presenti nella dieta dell'uomo da millenni, pensate che noccioli di ciliegie sono stati ritrovati durante scavi di aree neolitiche. Questi piccoli drupi sono originari dell'Asia minore. Importato in Italia da consoli romani, il ciliegie ha trovato nel nostro paese il clima ideale per crescere. Dal Trentino alla Sicilia la cerasi cultura è molto diffusa. Tra le regioni vocate c'è l'Emilia-Romagna. A Vignola, vicino a Modena, crescono le ciliegie più pregiate d'Italia, dolcissime e ideali per ogni uso. Anche sotto spirito. Ciliegie, amarene, visciole, marasche. La famiglia è ampia, ce n'è davvero per tutti i gusti. Provale anche nel succo di ciliegie amarena della linea Amarsi e piacersi in vendita da Iper, la grande I. Un concentrato di bontà e salute. Grazie a tutti.